Buongiorno e buona domenica. In Francia la Mercedes piazza entrambe le vetture in prima fila, cosa accaduta solo in Spagna e al Port Ricard, proprio i due circuiti dove la Pirelli ha portato le gomme a sezione ribassata di 0,4 mm. Sarà un caso, ma questi sono i fatti. Vetter non si dice preoccupato per la gara, anche se il meteo giocherà un ruolo determinante nella corsa. Anche la Red Bull è sembrata in difficoltà, con un evidente sottosterzo. In settimana è andato in scena il balzello della Power Unit Mercedes, in bilico fino al venerdì, il tutto condito con una salsa di color giallo, come nei migliori romanzi. In realtà era ovvio che arrivasse la nuova specifica, proprio nella pista dove le gomme Pirelli sono modificate. La casa milanese deve preservare la sua immagine e mettere mano alle gomme è necessario quando c'è in gioco la sicurezza. Su questo non ci sono dubbi. Tuttavia, certe prestazioni parlano da sole. Grande Leclerc, che si piazza ottavo con la Sauber al Formeo, un gran risultato per il giovane driver, che già in tanti invocano la guida della Ferrari. Male Raikkonen, che spesso alterna prestazioni altarenanti. Una cosa è certa, la Ferrari, se vuole vincere, deve contare su due piloti competitivi e non può permettersi di gareggiare uno contro due. Alonso dopo Le Mans partirà addirittura sedicesimo. Una nota, Hamilton risorta i fan a protestare contro le gare ad una sosta. Una indicazione per la Pirelli? Buona giornata e buona gara.